Ciao ragazzi, oggi siamo a Napoli, siamo tornati nella nostra città del cuore che è vicino a Roma e siamo venuti a mangiare in un ristorante sul mare che si chiama Acquolina Io ho già l'acquolina in bocca, tu Alì? Anche io Ok, vediamo cosa prenderemo, pizza, pesce, non si sa Ora lo scoprirete e poi vi faremo sapere come si mangia e se ve lo consigliamo Intanto andiamo a vedere cosa c'è qui intorno perché c'è un super panorama Guardate che bello Ti piace Alissa qua? Sì, è bellissimo Guardate che spettacolo, siamo proprio davanti al mare Che giornata poi, eh? È proprio bella soleggiata Sì? E che cosa che stiamo cercando ora? Il Vesuvio E dov'è? Secondo te dov'è? Di là Vediamo Vediamo, sarà quello? Sì, lo sai che è un vulcano attivo? Potrebbe ruttare in qualunque momento Sì, lo so Povera la gente che sta là con i balconi che si deve chiudere e il giorno dopo vi arriva la cenere fino così Eh sì, e poi insomma è pericoloso, eh? Si prendono un bel rischio però per vivere qua devi prenderti quel rischio Eccola qua, la biscazziera Che stai facendo? I mazzi Stai facendo i mazzi in attesa delle pizze? Sì Meglio i mazzi o le pizze? Le pizze Però non abbiamo preso solo pizze Tra un po' ci arriva l'antipasto di Mary Mmm, che ci sarà? Ha detto che ci fa una sorpresa Quindi non sappiamo ancora che ci porta A che giochi ora? Scacchi Un po' va seria ragazzi Cioè questi ragazzini che giocano a scacchi Sono proprio dei gangster Mamma che gangster Invece di Fortnite, scacchi Sono arrivati e ci hanno lasciato questo piatto così Sì, hanno detto una piadina qui E hanno lasciato questa cosa enorme Che ora non sappiamo come affrontare Ali, cosa arriva qua? Vai Prendi con questa porchetta Tipo una piadina con pomodorini e cose varie Concerto privato Qualche frittino Alissa, si mangia il pesce fritto Allora non mangi solo sushi Ma scusa, ma si può giocare e mangiare? Non ha detto uno Non ha detto uno Vedi, vedi che ti distrai? Eh, per colpa tua mi stai perdendo Come per colpa tua? No, è il cibo che ti distrai Ma no, sai tu mi stai parlando Mamma mia ragazzi Ma questo sarebbe l'antipasto? Ma qui ci alzeremo da tavola fra due giorni Alissa sconvolta Ha scoperto che questi pesci fritti Hanno anche gli occhi Mangia anche gli occhi, vai Intanto arrivano le cosse Che vada la bistecca di Daniel Quindi non fanno solo pesce Buona? Buonissima Chips fritte fatte in casa Ehi Niente, non te ne posso rubare neanche una Buon appetito ragazzi Com'è questa carne Daniel? Buonissima, morbidissima Vediamo se l'hanno cotta al sangue come hai chiesto tu Cottura perfetta Buon appetito Guardate, continuano ad arrivare cose Ah ma ce n'è uno anche là Alissa, ci vogliono far morire mangiando Ma noi siamo d'accordo Il polpo Io lo adoro Vieni qua Vieni qua Salmone Vieni da mammina Alissa Ce l'hai un po' di spazio? Guarda che bella Pure già tagliata in spicchi Assaggiamo Questa è la vera pizza napoletana ragazzi Com'è? È buona? È buonissima È super soft Alissa è arrabbiata Cosa ho fatto di così grave? La dovevi tagliare più di qua E hai fatto questo Ho fatto questa imperfezione nel taglio E quindi Ma scusa Perché non è perfettamente metà? Guarda adesso Sei punti io I vostri occhi di Alissa I vostri occhi di Alissa No Peggio di prima Fammi vedere quella mano Stai sporcata? No Strano Guarda Ma si può fare così? Mangialo almeno Non la devi appareggiare Ma appareggiola con i denti Dai Topolina Sembra un topolino con gli occhiali Allora Daniel vedo che ha gradito Dopo la pizza a portafoglio Alissa ha inventato la pizza a roll Un Uramaki pizza Com'era? Adesso i pastracchi di Silvia Ho rubato un po' di pomodorini Al povero Giacomo Dalla sua pasta E ora Li infilerò nella crosta avanzata di Alissa Perché qua è un peccato Sprecare anche una sola singola cosa Perché è tutto buonissimo Allora Bella aranciata Fatta qui Espressa Sul momento Pura arancia ragazzi E' come mangiare un'arancia liquida Buonissima Alissa Sei un'ubbriacona Sei un'ubbriacona Due Guarda Ci sono degli unicorni a passeggio Che camminano davvero Non ci credo Guarda che è proprio questo No Che scena brutta Mi prendono qua Guarda Guarda questo come cammina Mi prego che va di pomino Lo prendiamo Stanno tentando Alissa Con dei cani fastidiosi E' bellissimo Ma io preferisco l'unicorno impazzito Bene ragazzi Abbiamo mangiato E adesso siamo pronti Per affrontare Una bella passeggiata per Napoli Però per adesso vi salutiamo E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Ciao